Secondo me tutto va bene, così quando ho fatto la vaccinazione non ho paura. Mai ha scelto non di fare il vaccino cinese, magari di andare in Cina e andare a farlo là, ma di farlo qua in Italia? Questo dipende da qualcuno, no? Dipende da qualcuno, qualcuno ha piacere il vaccino cinese, qualcuno di qui, va bene anche lo stesso, secondo me è lo stesso. Come avete fatto a prenotarvi? Ci sono delle agenzie che vi aiutano per la prenotazione? No, non lo so, quello io non lo so. Voi vi siete prenotati sul portale regionale? Sì, io andavo in internet a fare questa prenotazione.